Siamo qui con Rino De Luca e Camillo Piccin, Rino De Luca è vincitore del campionato Coppa Italia Turismo della seconda divisione che però ha gareggiato quasi sempre insieme a Camillo Piccin. Qualche racconto sul campionato? È andato tutto abbastanza bene, non abbiamo mai avuto tante incidenti, io l'ho avuto a Misano, per il resto la macchina non ha mai dato problemi, grazie anche al Red Blue che ci ha sempre seguito con passione, abnegazione e pazienza. I risultati sono tutti fuori, ce l'abbiamo fatta. Avete programmi per l'anno prossimo? Stiamo pensando ma sicuramente faremo qualcosa anche l'anno prossimo. Sempre gareggiare in coppia? Adesso abbiamo due macchine, non so cosa faremo. Siamo diventati avversari proprio perché abbiamo due macchine e correremo nella stessa categoria, però saremo sempre seguiti dallo stesso team e stessa scuderia. Quindi da compagna ad avversari, veri e propri? Sì, ma comunque siamo degli avversari corretti, quindi non c'è nessun problema. Volete fare qualche ringraziamento particolare a qualcuno? Sì, come dicevo il meccanico, la squadra che ci ha seguito, i due ragazzi Diego e Francesco, poi la scuderia e i soliti familiari che sono importanti anche, anche la pazienza che dimostrano nel lasciarci andare. E anche al M&M Molto Sport che è la nostra scuderia, quindi siamo inseriti, loro hanno tutte le vetture tour mom, noi abbiamo aspirate ma ci siamo inseriti nel gruppo con le nostre macchine e abbiamo vinto. Grazie, ci vediamo alla prossima intervista.